Na 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 na, andiamo a sbloccare un altro personaggio, oh mo, siamo contro altre, le mie orecchie, ok, speriamo che sia un personaggio che non può volare, quindi posso subito fare un'energetica, ok, è vegeta, quindi può volare, Fa aiuto, ok, non so se vinco questa, cosa ha già perso vita, io non l'ho toccato, no, non ha perso vita, non so bene come mai l'indicatore fosse impazzito poco fa, vieni qua vegeta, sono di terzo livello, tu sei normale, quindi stai zitto e fermo e fatti uccidere, intanto non hai speranza, bene, vedo che sei molto arrendevole vegeta, vai a destra e a sinistra, rimbalzi tipo un flipper, ok, Un da, porca troia, oh ma basta, voglio fare un'energetica ucciderti vegeta, posso? No eh, non ti piace, ah no questo qui mi ricordo, questo qui è vegeta che fa bugare il gioco, aiuto, no no devo uccidere in fretta prima che mi sblocca, ricarico velocissimo, bene vegeta stai così, faccio il culo, tranquillamente, senza problemi, Questo è qui, buono, direi che è morto, se è morto, yeh, facciamo festa, voliamo in giro, e abbiamo vegeta normale che fa bloccare il gioco, yeh, andiamo al prossimo incontro, vediamo un po' chi c'è mo', mettiamoci subito a volare così, Sì sì, sparando energetica al pubblico così lo uccidi Gli ho tolto niente praticamente, cioè vabbè abbastanza però, meno di quanto avrei dovuto Questo gioco ci prova in questo momento che Ingegno di Tartaruga è più potente di vegeta, esatto, cioè lo so che non me lo aspettavate però il gioco vi dice così quindi è vero Da questo gioco al 100% ufficiale, non è in flash Mi sa che faccio il perfect, non mi ha toccato Direi proprio di... sì, cioè a meno che non mi incula adesso, infatti non mi ha inculato Grazie nonno Posso volare in giro, grazie Ok, diciamo che possiamo sbloccare un altro personaggio, dando per riempimento Na 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 Questo non l'abbiamo ancora fatto, chissà chi è Eeeh, è Gohan Perché ho l'impressione che sia forte Come non detto, è una pipa anche lui Perché la mia barra d'energia ha tre indicatori quando posso passare una mossa finale che me le chiude tutti Ok Tanto per fare domande a casa, avete visto il nuovo trailer del nuovo Lecce The Clank? Into The Nexus Sono contento che mi ha fatto... ecco che mi si è bloccato il personaggio, no per favore No, 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 vero che non vuole, grazie No, comunque dicevo, sono contento di... Into The Nexus che hanno fatto il... Un seguito di Aspasso nel Tempo Perché, vabbè, non è che Q4 mi dispiacesse, era abbastanza carino come gioco Però, cioè... Sono ben contento che abbiano continuato la saga come un tempo con... Cioè, con un'avventura, accidenti perché... E quello lì è il senso del C2 Clank Come la vecchia trilogia PlayStation 2 Non so se vi ricordavate... Cioè, se vi ricordate tuttora, non vi ricordavate al tempo Scusate, ma sono le tre di notte, quindi... Il mio cervello non funziona appieno come dovrebbe Eeeh, abbiamo sconfitto Gohan, quindi vuol dire che l'abbiamo sbloccato, giusto? Vero? Vero che l'abbiamo sbloccato? E dove cazzo sta? Qui, yeeeh... Salviamo State, andiamo nel prossimo scontro che è... In mezzo all'acqua C'è il fiocco rosso in mezzo all'acqua, mi sembra logico Qualcuno ha perso il fiocco rosso in mezzo all'acqua Ma voi sti... Ma no, sti cosi qua sono bellissimi Non mi ricordo neanche se c'erano i cartoni, ma sono bellissimi sti affari Cioè, sono bellissimi in mezzo al gioco, fanno schifo Già l'ombra è abbastanza fatta male Ma a parte ciò, guardate come si fanno uccidere con niente Perché non ci sono come protaggio sbloccabile Io userei sempre queste cose L'immagine lì sopra, in alto a sinistra, possiamo vedere come è ritagliata malissimo Complimenti all'autore di questo gioco, proprio... Lavoro impeccabile Vedo che sti cosi è sicuro che non sanno volare Ecco qua Quei proiettili sono velocissimi, proprio... Quell'esplosione è bruttissima Si è bloccata l'esplosione in volo Bello Ok, come al solito andiamo a sbloccare qualcun altro Che possiamo sbloccare Abbiamo fatto uno, due, tre, quattro, cinque Esatto, so contare gente Fatemi un applauso Junior Gohan si vendica per se è stato maltrattato da piccolo o da Junior, vedete Junior in questo momento è... sicuramente non sto dicendo io sono un fortissimo La data è come sta prendendo in culo E' lì nell'angolino che sta prendendo un cazzotti da Gohan Questa, questa ambientazione è bruttissima Come, che sono fatte quelle case da dietro? Sembrano dei peni Guardate come sono brutte Ho fatto 70 con... vediamo se posso arrivare a 100 Vediamo se posso arrivare a 100 O se si ferma a 99 come fanno la maggior parte dei... Picchi a duro, insomma 90, siamo quasi eh 35, 96, 97, 98, 99, 100 e... Un giorno fa 999, manca no Anche perché mi sa che tutti i nemici di questo gioco muoiono prima di 999 Comunque Junior è riuscito a non farmi fare perfecto, fategli un applauso gente Ok, Junior è necessario Petto nudo, proprio... In posa sexy, vedete Ok, il prossimo sconto è sempre là in mezzo all'acqua Un fiocco rosso, vediamo che un po' che nemici ci sono Ah, questo qui è come cosa si chiama? Il colonnello, là No, il generale blu si chiama, ecco Junior può volare? Sì Lui ovviamente non può farlo Cioè in realtà mi sembra che Nekatone potesse far... No, no, non poteva farlo La cavolata sto dicendo Oh, questa qui è l'onda più 8-bit di tutto il gioco Sine anche quella di Ia Satana era così a 8-bit Ha editato bene i poteri da suo padre, aia Ok, il generale blu sta a prenderlo nel culo Ok, diciamo che è morto Guardate quanto cacchio veloce l'animazione del generale blu, guardate Guardate che la velocità È iper, ho bevuto molto caffè sto tizio, guardate Ora puoi morire Grazie, l'onda 8-bit uccide tutti Ho vinto, sì Bene Sblocchiamo Goku di quarto livello? Ma sì, dai Prima ho fatto il 5 e il 4 Ho fatto il 5 e veniamo sul 6 Qui ho Goku di quarto livello e un altro Penso che sia Goku di quarto livello No, è Goku di secondo... no, di primo livello Junior fa il culo a Goku di primo livello, altro che Super Saiyan, guarda lì Aia Eeeh, per favore un po' di più potevi togliermi Mi spiace mi costringi A far bugare il gioco Eccoti qua Eccoti qua Stai lì fermo e muori, che non voglio ripetere sto livello Ok Ho un 8-bit e ti ucciderò Goku No, non è ancora morto Questa qua se mi fa un'altra combo di quella Come quella di prima mi uccide Vabbè, a posto, dai Vero un personaggio in più e festeggiamo Dov'è? Qua Prossima battaglia Ah, è contro Taipei Sono sicuro questa cosa Vado, questa voce era bruttissima Non so di chi fosse Ma... Di quale doppiaggio fosse Ma era bruttissima Eeeh Mi sa che era spagnolo Ok, è molto sproporzionata questa battaglia eh Però sti cazzi Comunque Taipei per dire Nel creatone potrà volare Qua non può Questa cosa mi lascia perplesso Ma vabbè Però nel complesso può saltare molto in alto, vedete? E' bello fare un gioco sulla prima serie in cui possiamo scegliere personaggi Dello Zeta Che fanno il culo a tutti gli altri L'onda di Goku è molto Ehm... 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 Poco dettagliato Ma almeno non è in 8 bit come quella di Junior Da 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 da... Na 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 na... Na 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 na... Farai complimenti per la grafica di questo gioco Però è tutta copiata da... Da altre cose ufficiali e non Quindi non è il caso Posso dire ben copiata Yeee K-O Abbiamo vinto contro l'Opera di Taipei Non pensavo che Goku di primo Di secondo Di primo livello fosse in grado di battere Sblocchiamo qualcun altro Vediamo se c'è ancora tempo No quindi alla prossima